Tragico incidente stradale che è avvenuto in provincia dell'Aquila, intorno alle 4 della scorsa notte sulla strada che porta ad Ortucchio, nella Marsica, la vittima è Lino Raglione, 29 anni, dipendente della cartiera e portiere della Fucenze Trasacco. Il giovane viaggiava a bordo della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuoristrada, morendo sul colpo.